Mi sono sposato e così bene. Mi sono autoscodellato con una consorte di una volontà. Cucina benissimo, quando gli va. Qual è la crosta che ti piace di più fra quelle che lei ti cucina? Beh, direi il pasticcio di maccheroni, quello con la crosta dolce. Il timballo. Il timballo, meraviglioso. Poi io sono abito a lavori così di scarsa qualificazione, tipo fare le polpettine, oppure fare gli struffoli. E in quei momenti, passati in cucina, ho sentito che mia moglie recuperi con una specie di vocazione al padronato nei miei confronti, alla sopraffazione, perché anziché il manico, diciamo, il cucchiaio c'era lei. Lo scettro, anche se però le polpettine sono un lavoro importante, direi che sono quasi un lavoro di concetto in cucina. Bella, l'elaborazione dell'impasto, ma da quella sono escluso. Ah, sei escluso da quella? Si mette davanti, sai, come il pappone delle galline. Mi piace moltissimo la frittà dei maccheroni senza le uova, quella bianca con gli spaghetti, con i cappelloni, sublime. Lo scammaro, come si chiama? Lo scammaro, quella lì, senza le uova. La pizza di scammaro. Pizza di scammaro. Pizza di scammaro.